Stavo ascoltando qualche cosa riguardo a quello che noi chiamiamo Olanda, ma veramente Olanda sono 12 regioni. Io stavo vedendo la storia di questo reino perché hanno ovviamente una monarchia e da noi sempre è stato molto interessante perché hanno avuto una squadra di calcio aranciona sempre molto interessante e sono conosciuto molto per quello. Ma mi sono trovato che sono 12 regioni, anche hanno qualche isola nel Caribe, per dirlo così, olandese, che appartengono al reino dei paesi basi. Una cosa caratteristica è che un terzo della terra è sotto il mare. Interessante, no? E che loro hanno fatto un lavoro bellissimo per lottare contro il mare. Dicono che dentro la cultura di questo reino sempre si parla della lotta contro il mare. Un'altra caratteristica dei paesi basi è che dicono che lì la statura delle persone sono le più alte in tutta Europa. Un'altra caratteristica che dicono è che la densità di popolazione per metro quadrato cubico è la più alta in tutta Europa. Forse perché dicono, e questa è un'altra caratteristica, che loro mangiano il fromaggio. Il fromaggio ci sono abbastanza, come anche dicono che mangiano troppo cioccolato. Ma questo mi sembra a me molto interessante. Un'altra cosa interessante è che dicono che lì la bicicletta, per ogni casa, più o meno, si trovano tre biciclette. Perché? Perché la bicicletta si è sviluppata come una maniera di vivere. Ci sono delle regioni o strade dove non c'entra una macchina. E hanno fatto così la gente per usare la bicicletta. E' molto verde per dire così. Un'altra cosa caratteristica di Olanda è che quando il cristianesimo è arrivato lì, ha fatto un bellissimo lavoro. E ha fatto non solo il cristianesimo cattolico, ma anche quello che si chiama della riforma protestante, che è arrivato da Calvino. E quindi lì l'educazione, dentro la cultura, si parla di che sempre si dice la verità. E si dice la verità da fronte. Pum, 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 bam. Pane, pane, vino, vino. Così. Loro sono, dicono che la loro cultura è un po' così. Ma questo sembra, approfondendo riguardo a questo, che l'educazione già da tanti anni, dove la cultura cristiana ha fatto all'olandese, per dirlo così, a essere molto, molto, dire sempre la verità. Ma perché? Perché Dio è un Dio che ama la verità, la misericordia, la giustizia. La ultima caratteristica che vi lascio oggi in questo video, non so se avete ascoltato, ma poliziotti in pensione, anche soldati in pensione, hanno chiamato a quelli che sono attivi. Hanno fatto una manifestazione dove dicevano che i poliziotti vogliono la democrazia e che loro erano contro il coprifuoco. Pensateci. Io ho visto questa notizia ieri. La potete trovare Sputnik Italia. Sputnik Italia. Mi è piaciuto tanto vedere queste donne, uomini, camminando sulle strade, manifestando, chiedendo al governo di togliere il coprifuoco. Deve avere libertà, democrazia, giustizia, lavoro, pace. Perché la misura, sembra, di questi coprifuoco è già troppo. In Italia noi lo abbiamo da un anno. Se misura il tempo per essere fuori da casa, per non avere contagi durante la sera, per me non ce l'ha senso. Perché limitare la libertà delle persone? Tutti noi dobbiamo approfondire di quello che sta accadendo, cari amici. Non credete tutto quello che ascoltate. Sarebbe bellissimo, come io ho visto, qui anche in Italia. Sono poliziotti che si hanno tolto il casco per rispettare le persone che manifestano il loro bisogno di lavorare. C'è cura a casa? C'è cura a casa. Il paese dovrebbe tornare alla normalità. Perché non lo permettono? Sarebbe bello se in Italia anche i poliziotti e i carabinieri possano uscire e chiedere al governo libertà, rispetto, democrazia e guarire a tutti coloro che possono avere questa malattia. Fate così il mio video, condividetelo. Forse possiamo imparare qualcosa di Olanda, paese basi. Ciao, alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!